Il bilancio è negativo, assolutamente negativo, perché se prendiamo ogni singolo provvedimento che è stato fatto in questi due anni, sono tutti negativi, partiamo dallo stadio, dalla raccolta differenziata, dai locali del cimitero che stamattina ho avuto un incontro con dei cittadini che mi hanno affermato che hanno pagato la seconda rata, però dei locali non si sa ancora niente, del verde, il bilancio è totalmente negativo su tutto. L'unica cosa che posso dire, quello che annunciano loro, sono i milioni che stanno arrivando in città, sono tantissimi, ma vediamo se sono in grado di spenderli, questo è il discorso finale. Che cosa si aspetta da questa aggiunta? C'è chi dice che parte del centro-destra è pronta ad entrare in maggioranza? Assolutamente no, il centro-destra sta in opposizione, come abbiamo dichiarato dall'inizio, abbiamo detto che appoggeremo qualsiasi provvedimento che fa gli interessi della città, noi lo voteremo sempre, come abbiamo detto da primo genio, ci siamo schierati nel ballottaggio con lui per il cambiamento, ad oggi il cambiamento non c'è stato per niente.